Massa piccola infermiera Ciao! Bella! Oh, mi dona moltissimo! Oh oh! Oh, dammi, 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 dammi Oh, un regalo! Dove vai? Accidenti! Oh, ma questo posto è fantastico! Adesso Lupetti vi farà una visitina! Siete d'accordo? Tu, apri la bocca! Vediamo! Denti sotto, denti sopra, linguetta! Uno, due, uno, due, uno, due, uno! Controlliamo i riflessi! Oh! Che bel gioco! Sono bravissima a guidare l'accuranza! Mi date una mano? Dai, la dobbiamo riportare lassù! Mimà, 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 mimà! Prendi la tua medicina! 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 Su, prendi la tua medicina! Oh, no! Oh, no! Dove vai? Torna qui! La misuriamo? Vedrai che sarai di nuovo bene! Devi guarire! Ah, ma devi tornare subito qui! Orso, abbiamo abbattato la tua medicina! Adesso mi prendo cura di te! Ehi, dove andate? Vi devo curare! Come faccio? I miei pazienti sono fuggiti! E io dovrei curarti con il miele? Di chi sono queste impronte? Ehi! Ehi, dove andate? Evviva! Pesta! Pesta! Fate largo! Orso! Perchè non dormi? Orso! 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 Di chi sono? Ah! Coniglio, 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 coniglio! Orso! E di chi sono queste? Oh! Di un coccodrillo? Ah! Di un lupo! Laggiù c'è un lupo! Andiamo a vedere il lupo! Porti la palla di neve? Impronte! Vediamo! Sono del lupo! Anche queste? Queste sono del lupo? Allora di chi sono? Questo cos'è? Un coniglio? Davvero? Allora questo è un lupo! Sono del lupo! Quelli sono del lupo! Del lupo! Del lupo! Lupo, 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 lupo! Ah, sono del lupo! Aspetta, lo so! Queste sono le impronte del coniglio! Oop, op, 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 op! Non me lo dire! ah ma certo ho capito è un coniglio tracce sulla neve fresca chi è passato per di qua un cane o un anzo oppure un cervo un bruco o un merlo chi lo sa chi cammina sul sentiero per i boschi intorno a me io vorrei proprio saperlo e tu mi aiuterai perché no aspetta io credo che chi ha lasciato queste impronte? ah è stato l'elefante gigante delle nevi o il coccodrillo volante no forse si ah adesso ho capito si lo so ascoltami è il pappagallo della giungla o il pinguino tropical ora è tutto molto chiaro non ho nessun dubbio più non è un cane né una mucca è un pesce con le ali blu orso guarda qui lo vedi è un coniglio non ne capisci proprio niente di impronte e già a lupo a lupo sta per cominciare la partita decisiva per il campionato se i rosso blu si aggiudicheranno il match saranno i nuovi campioni ecco è tutto pronto i giocatori sono posizionati al centro del campo aspettano solo che la... azione pericolosa della squadra rosso blu che avanza verso la porta avversaria il gioco riprende con un calcio di punizione per la squadra avversaria ma il giocatore dei bianchi viene anticipato la difensione dei rosso blu che ripartono in contraattacco l'azione si sviluppa sulla fascia sinistra ecco che porta un ottimo cross il c... buon pomeriggio cari telespettatori eccoci al nostro appuntamento settimanale con la salute oggi scopriremo vari modi per eliminare lo stress stress vorremmo suggerirvi alcune tecniche rilassanti che possono alleviarvi e ridurvi lo stress in soli 10 minuti cominciamo con la più semplice sedetevi su una poltrona confortevole e respirate normalmente oppure assaporate una tazza di tè alle erbe evitate ogni pensiero negativo mentre lo sorseggiate e ora possiamo suggerirvi un'altra tecnica per rilassarvi riempite la vasca di acqua calda e preparatevi per fare un bel bacio mentre siete nell'acqua eseguite alcuni esercizi respiratori prendete un respiro profondo e mantenendo la bocca chiusa immergete metà viso ed espirate dal naso fatelo molto lentamente ricordate però che nessuna tecnica di rilassamento è una bacchetta magica che fa sparire come per magia i vostri problemi si tratta solamente di un amico un cellulare dammelo 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 devo andare nel bosco e se ci sono i lupi? controllo se squilla oh se ho paura chiamo orso oh niente panico adesso faccio il numero di orso acqua eh mh maile Oh! 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 Hm! What? Oh! Partita è avvincente con occasioni da entrambe le parti. I rosso-blu sono ancora in passaggio per uno a zero, ma i bianchi si sono resi spesso pericolosi. Mancano ancora otto minuti alla fine dell'incontro più l'eventuale recupero che deciderà l'arbitro. Niente panico. Ora faccio il numero di orso. Ecco che il sette dei rosso-blu si invola sulla fascia. Supera un avversario. Faccio di nuovo il numero. Calcio di rigore! Calcio di rigore per il rosso-blu! Provo a fare ancora il numero di orso. Il giocatore aspetta solo il fischio dell'arbitro. A me sembra che sia occupato. Oh! Il rosso-blu sono sul due a zero! Ti dico una cosa! Scappiamo! Oh! 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 Perchè non rispondevi? Oh! I tre maschettieri! Ti dico che questo non è il modo corretto di educare un bambino! E io ti dico che questo bambino è mio e lo educo come mi pare e piace! Questo non è il modo corretto di nutrire un bambino! Sì, forse hai ragione, ma questo è ciò che il mio bambino preferisce mangiare! Oh, a quanto pare il mio bambino è scappato! Visto, ho ragione io! I bambini non scappano se le mamme ritrattano come si deve! Oh, a quanto pare? I tre moschettieri Te l'ho detto, non è sufficiente nutrire un bambino Devi anche insegnarli a leggere, dipingere e cantare E io ti ho detto che nutrire un bambino è la cosa più importante Visto? Il mio bambino ha sviluppato un appetito per la lettura Beh, ha letto abbastanza Piccolo mio, è il momento di mangiare Poi da bravi ce ne andiamo a letto a fare un riposino E poi mangiamo di nuovo Che succede? La mamma ha lavorato duramente per prepararti da mangiare e tu non lo vuoi Allora dimmi, che cosa vuoi? Ho capito! Sì, diventeremo i tre moschettieri! Orso! Possiamo farlo? Evviva! Sì, possiamo! Diventeremo subito i moschettieri! Presta amici andiamo adesso tocca a noi Tutti uniti non ci lasceremo mai I nemici spariranno in un baleno Quando ci vedranno con la spada in mano Cappaguanti e stivali La piuma sul cappello c'è Coraggiosi e leali Moschettieri a me Orso! Guarda, ci siamo i moschettieri! Orso! Penseremo noi a consegnare tutto! Maschettieri! Andiamo! Ehi! Pedalate più in fretta! Non fate le lumache! Dovete seguire tutti me! Perché devi essere tu al comando, scusa? Perché punto numero uno io sono la più importante E punto numero due perché io sono d'artagnan Chi? Ti hai detto chi sei? Io sono l'eroe! Tu piuttosto chi sei? Allora dimmi, chi sei? Ah, è così saresti l'eroe! Beh, ti sbagli di grosso, non lo sei! Sì, invece sono la più coraggiosa! Non sei affatto la più coraggiosa! Comunque non mi hai detto ancora chi sei tu! Che ti importa? Dimmi chi sei! Serve per la storia! Io non te lo voglio dire! Tu cosa vuoi? E tu dimmi chi sei! Te lo dico! Dobbiamo decidere chi è d'artagnan! Orso sta aspettando! Sì, hai proprio ragione! Grazie! Ci chiameremo i moschettieri del re! Dove sono i regali? E che fino ha fatto il quarto moschettiere? Probabilmente a combattere per tutti noi! Fresh, andiamo ad aiutare il nostro amico! Salve, signori! Per caso avete visto passare un moschettiere? Lo avete visto? E che cosa è successo? Diteci! E che cosa è successo? Sì, non c'è dubbio! È lui il vero d'artagnan! Visto ho cresciuto un vero eroe! Non sbagliavo nulla! Lei mi diceva devi fare questo, devi fare quello... Signore! Se non vuoi assaggiare le nostre spade, lascia quel maschettiere! Moschettieri coraggiosi siamo noi! Dai nostri buffi baffi tu si riconoscerai! Ed il nostro motto presto imparerai! Tutti per uno, uno per tutti! Che bel colpo ti è successo! Che bel colpo ti è successo! Moschettieri a me! Forza il spadaccino! Entra pure! Forza il spadaccino! Forza il spadaccino! Ma ti sei ammalato? Sarò il tuo dottore! Meno male che ci sono io! So come curare i malati! Ora caro orso ti faccio una bella visitina! Toc toc toc! Toc toc toc! E' un po' di riposo! Adesso stenditi! Dai forza! Ti ci vuole il tè e i lamponi ora! Così la medicina sarà più dolce e gustosa! Ah e tu non alzarti dal divano! Non è che ti sei alzato? Ti senti ancora molto male? E va bene orso! Ora ti visiterò di nuovo! Bene! Sì sembra che vada bene! E' tutto a posto qui! Sei davvero malato! Hai bisogno di un periodo di riposo! Ciao! Ah! Oh, che stanchezza. Ieri eri malato, oggi sei ancora malato. Non guarisci? Ho capito, ho capito. Come vuoi tu? Ti visito di nuovo. Sei malato? Resta a letto e non muoverti. Vado a prenderti la medicina e torno. Presto un'emergenza! Presto, presto! Solleva di qua, solleva di là. Infilate! Chiudete! Partiamo! Dai, più veloci, più veloci! Forza, forza! Più veloci, più veloci! Troppo veloci! Più veloci! So come si cura un malato.